eccoci qua ragazzi è venuto un giorno importantissimo nel quale monteremo le grafiche nuove all'usa un po di mare un po più di come dire festività perché queste grafiche saranno molto estive diciamo estive perché mi chiederete giusto? te lo stai chiedendo tantissimo esatto estive perché sono acquatiche esatto poi vedrete come saranno ragazzi e procediamo al montaggio mi riprendi ma devi aiutarmi perché se no non portiamo a termine questo lavoro non portiamo a termine questa mansione questo obbligo ormai il primo step nel montare le grafiche è pulire attentamente le plastiche ma molto bene cioè proprio pulire 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 lo stacc tacc non 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 ci stanno dai ragazzi alla fine ci stanno cioè bisogna vederlo con la sala messa bisogna vedere un po due cose i colori ci stanno a giallo fu carino quindi ora procederemo a fare il parafango ci stanno a giallo a giallo ragazzi a cannone come sempre lo scriviamo pure sulla moto ragazzi procediamo a installarla guarda che secondo a cannone le grafiche sono di albicocca tra l'altro troppo buone ciao 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 allora ragazzi se non l'aveste ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella a fianco e iscriviti il futuro è vostro se vi iscriveretevi Eh, chiusura Sono chiusura da youtubers Da youtubers Ragazzi Alcuni youtuber come me Sono quasi sprecati per fare quello che fanno Ma comunque Il nostro piccolo noi Facciamo quello che possiamo Grazie